Da Budapest, Zeyn Yosef! Grazie, sono molto contento che io sono qui di nuovo a Donia. Questa primavera io sono stato a Parma per vedere l'istattore giovanile. Questo è stato molto bene perché io ho conosciuto meglio l'amato di Parma. Io ho provato a fare con questi ragazzi. Questi ragazzi del gruppo B erano molto bene, i ragazzi sono stati bravi. Io spero che noi ci vediamo il prossimo anno. Grazie. E lo speriamo anche noi. Grazie, Yosef! Grazie.